All'interno del ciclo I Magnifici Dieci guida al romanzo italiano del primo novecento, il romanzo che è oggetto della nostra conversazione di oggi è, come vedete, Le sorelle materassi di Aldo Palazzeschi. Dico subito che Aldo Palazzeschi, il cognome Palazzeschi in particolare, è un nome d'arte, un cognome d'arte, un nom de plume, come dicono i francesi. Aldo Giurlani si chiamava questo scrittore che era nato a Firenze nel 1885 da una famiglia di ricchi borghesi. Il padre, Alberto Giurlani, era proprietario di un elegante negozio di guanti e cravate al centro di Firenze nel celebre via Calzaioli. Il nome Palazzeschi era il cognome di una nonna materna che Aldo decise, sin dalle primissime prove, di adottare. Ubedendo, come allora succedeva ai desideri paterni, nel 1902 Aldo si diploma ragioniere. Ma è il teatro la sua vera passione e lo potete vedere nei panni appunto di un bel giovane fiorentino che si è iscritto alla reale scuola di recitazione Tommaso Salvini, un celebre registatore per così dire del secondo ottocento, diretta a Firenze da Luigi Rasi che è stato, si è detto per inciso, un eccellente storico della recitazione italiana. In quella scuola tra l'altro Aldo contrae la prima profonda amicizia della sua vita con un altro notevole poeta e narratore italiano, Marino Moretti, che rimarrà amico per tutta la sua vita. Esordiscono i due a teatro, addirittura nel ventaglio di Goldoni, Palazzeschi è in quella distribuzione il barone del cedro, figura tutt'altro che secondaria nell'economia del dramma, ma presto si accorge che deve rinunciare anche per le pressioni paterne probabilmente alla carriera teatrale ed è la letteratura quello che incomincia ad affascinarlo. Anzi, da questo punto di vista Palazzeschi è uno scrittore precoce perché a vent'anni esatti pubblica sia pure in cento coppie, sia pure presso un tipografo locale fiorentino, la sua prima raccolta di poesie, I cavalli bianchi, alla quale seguirà una seconda piccola silloge, due anni dopo, La Lanterna e ancora nel 1908, addirittura con una spiritosa indicazione di editore apocrifa, Edizioni Cesare Blanc, che in realtà era il nome del gatto prediletto da Palazzeschi il suo primo romanzo, Riflessi, con un titolo tra l'altro dal punto di vista grafico singolare perché questo sostantivo è minuscolo nella copertina del libro ed è preceduto da due puntini, dal segno di interpunzione dei due punti. Segno questo e modo di presentazione dell'opera prima narrativa del 1908 che già ci dice la direzione nella quale si sta muovendo Palazzeschi, quella di una letteratura in qualche modo d'avanguardia, non a caso sempre stampati dal povero gatto Cesare Blanc nel 1909 escono i poemi di Aldo Palazzeschi che contengono la raccolta integrale poetica del nostro scrittore ma che soprattutto suscitano l'entusiasmo di un grande agitatore di folle che è il futurista Filippo Tommaso Marinetti. La foto che vedete piuttosto rara e molto significativa vede Palazzeschi che avrete ormai riconosciuto arruolato nella schiera dei futuristi Marinetti è nella sua stessa seconda fila nella fotografia, in mezzo ai due c'è un altro polemista nato che è Papini e Marinetti coinvolge Aldo Palazzeschi nelle turbolente, memorabili serate futuriste, quella del gennaio 1910 al Politeama Rossetti di Trieste, gli fa conoscere beato lui quei grandi pittori che saranno Boccioni e Carrà, lo trascina ad altre turbolente manifestazioni a Torino, a Napoli, finché Palazzeschi si dichiara in qualche modo futurista a tutti gli effetti pubblicando quella che è una delle raccolte capitali della poesia d'avanguardia italiana del primo novecento, l'incendiario, che è preceduto per lui da un ingombrante, diciamo la verità, per lui rapporto sulla vittoria futurista di Trieste, cioè la celebre prima serata al Politeama, dico ingombrante perché Palazzeschi fu sì un compagno di strada dei futuristi, ma intanto per pochi anni e poi perché tutto gli si addiceva salvo in qualche modo questi proclami a cui invece Marinetti e i suoi compagni di fila lo costringevano esibirsi in pubblico, era un uomo elegante ed appartato. Sta di fatto che l'incendiario è l'unica grande raccolta di poesia d'avanguardia italiana che non segua in maniera pedissequa gli stilemi di Marinetti ma che dimostri un talento originale come quello di Palazzeschi era, magnifiche tutte le poesie di questa raccolta e soprattutto sorprendente nel marzo di quello stesso anno 1910 e poi in una edizione più importante dell'undici, il primo romanzo d'avanguardia italiano, il primo romanzo della neoavanguardia futurista, il codice di Perelà, la storia tra sospesa, tra fiaba e realtà ma in sostanza una grande fiaba dell'uomo di fumo, Perelà, uomo di fumo, un omino tutto leggiadria e leggerezza e svagatezza calato nel turbolento universo degli uomini in cui è per la sua stessa indole costretto a fare una tragica fine. Ma non è di questo romanzo come già vi abbiamo anticipato che vogliamo parlarvi quanto di un romanzo della prima maturità di Palazzeschi, proprio Le sorelle Materassi che vede la luce ben più avanti rispetto a questi esordi di cui tuttavia dovevamo assolutamente parlarvi, l'incendiario da una parte e il codice di Perelà dall'altra, poesia da una parte e narrativa dall'altra per sottolineare che siamo davanti ad una personalità di respiro europeo che come i compagni futuristi a Parigi più che altrove facevano le prime prove di una idea di letteratura diversa. Le sorelle Materassi è invece del 1934, siamo quindi oltre 20 anni dopo il codice di Perelà dal punto di vista della narrativa e compare per la prima volta sulla rivista Nuova Antologia tra l'agosto e l'ottobre del 1934. C'è come caporedattore quello che sarà uno degli scrittori più fini dell'Italia di quella generazione, Antonio Baldini, uno scrittore che più nessuno legge ma ingiustamente, che chiede appunto all'amico Aldo, hai qualcosa di pronto, è vero che stai facendo un romanzo, se ne potrebbe avere qualche puntata per pubblicarlo sulla nostra rivista e Palazzeschi ha consente, quella della rivista non è ancora per lui la stesura definitiva che sarà invece affidata a quello che è stato per decenni, numerosi decenni, l'editore di tutta la grande letteratura fiorentina e toscana del primo novecento, cioè Enrico Vallecchi, una casa editrice prestigiosissima e rigorosa nelle sue scelte di allora. Proprio ad Enrico Vallecchi Aldo Palazzeschi scrive, sto per darti un romanzo, siamo al primo marzo del 33, col quale conto di penetrare in una certa misura nel pubblico, assai più che in precedenza e che vorrei pubblicare nel 34. E ancora all'editore, Palazzeschi nell'approssimarsi della consegna del fatidico manoscritto finale, ne ha già dato una stesura ancora non definitiva alla nuova antologia, sto per darti un romanzetto piccante senza nulla che possa urtare la suscettibilità di nessuno pur non essendo, si intende, un pezzo per educande. Come vedete Palazzeschi aveva una certa vocazione a quella che noi oggi chiameremo la promozione pubblicitaria, se riusciva ancora prima di consegnarlo all'editore a metterlo in golosità con questi accenni un pochino e volutamente ambigui. Un romanzetto piccante pur non essendo un pezzo per educande. Che cosa racconta in effetti, dopo queste premesse quasi pruriginose, le sorelle materassi? Racconta l'esistenza di due donne appartate, le sorelle del titolo, due cucitrici, le materassi, dalla clientela abbiente e prestigiosa, molte sono appunto che a loro si rivolgono le nobili fiorentine, che lavorano in volontaria appartatezza in una loro casa, Palazzeschi romanziere dice assomigliava a un quadrilatero, sulla collina di Coverciano, anzi per l'esattezza tra pianura collina del comune di Coverciano, siamo quindi in Toscana sulle colline per l'esattezza fiorentine. Quelle due cucitrici si chiamano Teresa e Carolina, le materassi. Volitiva, molto volitiva, in qualche modo anche pugnace, la prima piuttosto fragile e in difesa, la seconda Teresa, ripeto, e Carolina, zitelle per vocazione o forse perché la vita non le ha mai baciate col privilegio di un qualche amore profondo e tantomeno con l'istituzione matrimoniale, che hanno in qualche modo restaurato anche fisicamente la proprietà paterna, che sono unitissime nel lavoro e anche negli obbligatori appuntamenti religiosi, ma che sono gelose l'una dell'altra, soprattutto quando si abbandonano verso sera, l'imbrunire il tramonto è sempre stato dalla letteratura greca antica l'ora della nostalgia, dicevano i greci, cioè della nostalgia, alle rievocazioni di una vita sentimentale che per la verità non hanno mai avuto e che per lo più, come dire, immaginaria. Con loro c'è anche una sorella minore, Giselda, che è stata, come dire, toccata invece da un matrimonio fallito e umiliata e inasprita da questa disavventura coniugale che in qualche modo la segna, tanto più che è mantenuta forzatamente dalle sorelle. E quarto personaggio femminile, finché vedremo che la situazione si ribalta all'improvviso, la serva Niobe, un personaggio tutto vitalismo, bonario, benevolo, tutta ottimismo, ancora tutt'altro che insensibile, nonostante delle esperienze disastrose nella propria giovinezza, al fascino maschile. Fascino maschile che in quella casa, in quel quadrilatero, in quel bianco fortilizio quadrato sulle colline di Firenze non dovrebbe mai apparire se non fosse che c'è, come dire, una quarta sorella, una quarta sorella distante. Augusta sta in una regione per le materassi addirittura misteriosa, difficile da raggiungere, sta semplicemente ad Ancona nelle Marche, ma la distanza per le due recluse volontarie nella villa di Coverciano diventa mostruosa da percorrere, ma bisogna percorrerla perché Augusta, minata da una malattia e vedova, sta sul punto di passare a miglior vita. E proprio dopo un viaggio avventuroso che Palazzeschi ricostruisce con pagine memorabili di forza corrosiva ironica e addirittura grottesca, il viaggio Firenze-Ancona come un viaggio quasi tutto in un tunnel buio e perenne, dopo quel viaggio le due sorelle, Teresa e Carolina, sono al capezzale di Augusta e la devono, devono, per amor sororale, promettere alla imminente trapassata che si prenderanno cura del figlio di lei, Remo. È la prima, come dire, apparizione di un elemento maschile nel romanzo, tutto lascia presagirne e diventerà il protagonista. Incominciarono a guardarsi disorientate nella casa fredda e vuota, poverissima, quasi sprovvista di masserizie, squallida, e a guardare e riguardare Remo, che ritto in mezzo, senza un gesto, né disperato né timido, quasi fosse privato della volontà che ci fa agire, le guardava con due occhi neri e grandi, di un ovale soffuso di luce senza aggressivo ardore, lenti nel movimento e che induciavano sull'oggetto, né curiosi né attoniti, in atto di attesa, di sospensione, con una limpidezza e una serenità perturbatrici che non avrebbe avuto uno sguardo mobile e ardente. Gli occhi, gli occhi magnifici di Remo, badate, siamo davanti a un ragazzo di 14 anni che sta per essere orfano, le bellissime ciglia, questi bellissimi occhi erano incorniciate da ciglia lunghe e forti, che una volta unite vi formavano come suggello una minuscola siepe e coronati da sopracciglia di seta, lucenti e spesse, nerissime, di linea alta e nobile, elegante, che ne mettevano in rilievo la bellezza e la profondità. È entrato nella vita di queste due zie e zitelle il 14enne Remo che, come avete sentito, esse sono obbligate a prendere in casa per richiesta implorante della sorella trapassata e che subito arrivato lassù, sulla collina di Coverciano, soggioca, fascina tutti, ad eccezione della torva e aspra zia Giselda, con la sua bellezza sensuale e soprattutto con una sorta di furbizia sicura di sé, che riesce a farlo perdonare di tutto un avvenimento dopo l'altro. L'amicizia che Remo all'improvviso, pochi giorni dopo, poche settimane dopo che è lassù, contrae con un povero coetaneo, palle, appassionato come lui di macchine da corsa. L'insuccesso che anno dopo anno si fa sempre più palese da parte sua in qualunque tipo di studio, in cui non solo non eccelle, ma non riesce neppure a distinguersi. Le spese che lentamente, ma in una sorta di progressione inesorabile, Remo, naturalmente traendole dal borsellino delle due operose cucitrici, va compiendo. La vita oziosa a cui si abbandona, una specie di tenace indifferenza, quasi di un'ombra di cinismo nascosta sotto la patina di una disinvolta eleganza. Le amicizie strane, inconsuete, contro la norma. Una, per esempio, con una originale contessa russa che abita a Settignano, nelle colline vicino, e che è un tipo mascolino e rudemente sportivo, fino ad una macchina lussuosa che Remo riesce ad ottenere, perché questo è uno dei miti della sua vita di adolescente ormai giovane, non grazie ai soldi delle zie che non li sborsano, ma addirittura grazie ai risparmi di Niobe, la serva bonaria e vitale che davanti a quel giovanotto stravede. Le sorelle sulle prime sono catturate nel turbine di Remo, finalmente si concedono delle distrazioni e Remo le trascina di qua e di là, in svaghi che prima non si permettevano, cinguettavano le zie. Dove ci porti? Dove si va? Ve l'ho detto, mie care, ripeteva Remo con voce carazzevole, insinuante, precedendole verso la macchina. Si va da Narciso alle cascine a prendere l'aperitivo, poi a cena a Fiesole e verso le dieci alle follie estive. Ho già il palco, da Narciso alle cascine a cena a Fiesole, alle follie estive, ripetevano le zie salendo in automobile fingendo di imparare quello che sapevano. E che cosa c'è alle follie estive? Che cosa c'è? Una nuova rivista, donne in terra, in cielo, in mare. Ecco le zie, zitelle catturate da Remo, ma quella cattura a poco a poco le distrae dal lavoro, sono sempre più assillate dal bisogno di denaro, vedono scadere la clientela, eppure devono a tutti i costi procurare la dote e il marito ad una loro lavorante che è stata, lo dicono con reticenza, con un rossore estremo, ingravidata dal nipote. Dopo averle addirittura rinchiuse in dispensa per estorcere loro una grossa cambiale, Remo ormai si abbandona ai viaggi con il suo fedele palle, esecrato per la origine proletaria dalle zie. E poi all'improvviso annuncia il suo matrimonio con una ricchissima e disinvolta americana Peggy che presenta alle poco convinte zie e che sposa al paese delle zie naturalmente con grande sfarzo e poi se ne parte per l'America. Le sorelle materassi si accorgono a questo punto di essere completamente rovinate, si chiudono in casa, ormai lavorano soltanto più per qualche contadina dei dintorni e per i suoi poveri risparmi, ma sono ancora prese nell'adorazione del nipote Giselda, la sorella che rinuncia ad aiutarle è da loro addirittura scacciata di casa e lo rivivono attraverso le sue fotografie che appendono non appena si sono un po' economicamente riprese nella loro umile stanza di lavoro come se quel nipote in America fosse diventato quasi un loro nome tutelare. Che cosa sta a significare questo romanzo scritto con una verve stilistica, un brio, un ritmo di balletto stralunato addirittura eccezionale? Sta a significare l'irruzione della vita. Vorremmo dire se la scelta grafica non fosse sospetta di qualche vitalismo eccessivo, di qualche dannunzianesimo estetismo eccessivo, la vita con la V maiuscola laddove è stata sino allora disperatamente minuscola, cioè ordinaria, appiattita, monotona, grigia e l'irruzione della vita attraverso la forma che più particolarmente colpisce ciascuno di noi a livello esteriore quando anche non si traduca in forme di culto o di idolatria come invece accade alle sorelle materassi, la bellezza. Anche qui la bellezza con la B maiuscola perché Remo è davvero il bello per Antonomasia, per questo le sorelle lo adorano, per questo hanno un culto che è propriamente amoroso per le forme magnifiche del ragazzo che poi via via si fa uomo e sempre più spregiudicato al limite del cinismo, per questo ancora quando il ragazzo non è più là perché è fatto per l'appunto uomo ha travalicato l'oceano, per questo le due sorelle ormai definitivamente sole si incantano davanti alle sue fotografie. La vita con la V maiuscola, la bellezza con la B maiuscola, laddove ha regnato invece una non vita, dove ha prevalso senza che forse le sorelle se ne fossero mai accorte la bruttezza se non fisica, certo morale. Quella forma di bruttezza che è legata ad ogni abitudine meschina, ad ogni consuetudine sordida, ad ogni debolezza che via via si incancrinisce su se stessa e rischia di farsi in qualche modo malattia. La realtà è insorta per la prima volta all'orizzonte di lavato estinto delle sorelle materassi attraverso l'apparizione di questa sorta di arcangelo domestico che è il nipote. Ma sappiamo che i demoni, quelli che l'immaginazione popolare dalle più fonde origini del nostro medioevo ha chiamato i diavoli, erano nient'altro che arcangeli caduti, non banali angeli, arcangeli, cioè primi angeli caduti e Lucifero era il primo di codesti arcangeli. Ancora Dante nel dipingere nell'indimenticabile canto conclusivo dell'inferno Lucifero infitto nel ghiaccio sino alla cintola e con gli occhi impietrati e chiusi atrocemente dal ghiaccio ci ricorda questa origine arcangelica del re dell'inferno. Ebbene anche in Remo senza andare a Dante la bellezza dell'arcangelo coincide con qualcosa di demoniaco. C'è come dire intanto una condotta di vita all'insegna della più accesa amoralità se non immoralità. C'è e Palazzeschi ne dissemina gli indizi con una riserva ed una misura calcolatissime. C'è il dubbio che affiora in più pagine del romanzo senza che mai nulla possa confermarcelo di una relazione omosessuale tra Remigio e il fedelissimo Palle anche se l'intreccio non va per nulla in quella direzione. Insomma non c'è soltanto l'irruzione della vita e della bellezza c'è anche sotto mentite spoglie l'irruzione del peccato quel vigore fisico quel culto dell'energia fisica che Remo celebra in se stesso senza mai badate bene dire sono bello ma perché questa attribuzione di bellezza gli viene implicitamente inconfessatamente data dalle zie dal suo pubblico adorante. C'è in questa bellezza si annida in questa bellezza un germe di qualche diabolica trasmissione. Vedete tra l'altro sul vostro schermo apparire due delle attrici che hanno in alcune delle trasposizioni cinematografiche e televisive di questo bellissimo romanzo impersonato le sorelle materassi sono per l'occasione Marina Malfatti e Simona Marchini ma in una data ancora non distante dall'apparizione del romanzo ripeto ancora una volta 1934 una film come si diceva allora perché i più giovani si stupiranno ma il sostantivo aveva valenza femminile nel vocabolario corrente viene tratto dalle sorelle materassi romanzo un film omonimo diretto da Ferdinando Maria Poggioli uno dei registi più di più alto mestiere del cosiddetto periodo dei telefoni bianchi con due prestigiose prestigiosissime attrici del teatro italiano sorelle nella realtà Emma ed Irma Grammatica nel ruolo appunto delle due sorelle così diverse e così complementari le materassi palazzeschiane ebbene dicevo in quel in quell'arcangelo c'è qualcosa di demoniaco allora il romanzo è anche la storia di come l'esistenza non sia codificabile questo è un tema che il palazzeschi poeta sin dalle origini ha celebrato ho fatto riferimento a quella memorabile sublime raccolta che è l'incendiario e le poesie dell'incendiario avevano spesso protagonisti sinistri che o che tali venivano additati al pubblico obrobrio da parte della cosiddetta società civile da parte della cosiddetta collettività per bene uno è proprio l'incendiario della poesia che intitola tutta la raccolta ma un'altra poesia celebre di palazzeschi ha come titolo assolto con il punto esclamativo nel titolo ed è la storia di un uomo che esce di prigione assolto da una colpa che nessuno sa se abbia veramente commesso come a dire che le leggi che regolano la civile convivenza sono tutto meno che definitive ma soprattutto è estremamente labile il giudizio che noi orgogliosamente e a volte malvagiamente riteniamo di poter dare di questo o quel nostro compagno di vita sociale senza averne né come dire la delega morale e senza avere la certezza di possederne i criteri di corretto ed equilibrato giudizio l'esistenza questo romanzo ce lo suggerisce a più riprese è qualcosa di estremamente labile di estremamente disordinato di estremamente imprevedibile all'improvviso un avvenimento banale inatteso nel caso delle materassi la comparsa di un nipote quattordicenne di cui praticamente non dico ignorassero l'esistenza ma di cui non avevano mai constatato fisicamente la presenza è in condizioni di ribaltare tutto quello che a loro resta da vivere e l'irruzione di questo ospite indesiderato è in realtà l'irruzione del diverso da questo punto di vista le sorelle materassi è un romanzo che segna davvero una svolta nella narrativa italiana della prima metà del novecento perché fa proprio un tema che le letterature europee avevano affrontato già un decennio prima negli anni venti in genere con particolare appropriatezza e con particolare profondità di sguardo il tema della diversità che noi oggi siamo come dire invitati in qualche modo a rapportare ad un universo ad un orizzonte tutto sommato abbastanza ristretto quello della diversità sessuale quando diciamo diverso pensiamo spesso e volentieri all'omosessuale per l'appunto ma che in realtà nella sua semplicità aggettivale contiene una messe di riferimenti assai più ampia si può essere diversi dagli altri per scelte religiose si può essere diversi dagli altri per opzioni politiche si può essere diversi dagli altri per appartenenza ad una determinata classe sociale che in quel momento è minoritaria si può essere diversi dagli altri dall'alto e dal basso per una diversa formazione culturale e quindi per una diversa coscienza dei propri mezzi a disposizione nella vita sociale ecco alcune delle infinite varianti a cui questo semplice aggettivo può presentarsi all'immaginazione di uno scrittore e in questo romanzo a parte le allusioni a cui ho fatto cenno all'interno di quell'amicizia dura e durevole tra remigio e palle non c'è mai il tema della diversità sessuale affrontato sotto nessun riguardo ma il diverso outsider in inglese etranger in francese i francesi assimilano questo aggettivo al aggettivo sostantivo straniero è una delle tante forme di irruzioni nella nostra vita di un altro da noi che non prevedevamo esistesse che non sapevamo esistesse e che non prevedevamo in qualche modo venisse in rotta di collisione con noi l'importante è il trattamento che di questo tema viene fatto in un decennio successivo nel decennio dell'immediato secondo dopoguerra il tema della diversità dell'estraneità della differenza ecco ho detto ho cercato di declinare le tre forme in cui nelle tre lingue che ho evocato questo tema sia palesa verrà ad assumere connotazioni per lo più di carattere filosofico politico sarà la grande stagione esistenzialista francese in particolare la stagione dei Sartre dei Camus che marcherà con romanzi memorabili questo tema non a caso uno dei più bei romanzi se non il più bel romanzo di Albert Camus si intitola lo straniero l'étranger che vuol dire lo straniero in quanto passaporto ma vuol dire anche come il romanzo racconta l'estraneo per cultura e comportamento in quei romanzi il tema dell'estraneità il tema della diversità è trattato in chiave drammatica e con un registro stilistico che si tinge di scuro di cupo va appunto in direzione tragica nelle sorelle materassi questo tema è invece trattato sul registro del grottesco e semmai dell'ironico nulla e nulla è più distante dall'universo mentale ed espressivo di Palazzeschi che la tragedia e la sua cupezza tutto è tratteggiato con la mezzatinta e ci sarebbe da dire qualcosa ma il tempo non ce lo consente sulla straordinaria cultura figurativa di Palazzeschi sulla sua predilezione per i pittori di mezzatinta che è in genere e non soltanto sua una prerogativa dei narratori toscani del primo novecento e della sua generazione ma questi richiami ci porterebbero fuori strada diciamo invece che il personaggio chiave dell'universo mentale di Palazzeschi è il buffo ora e Paglio dei buffi si intitolerà il libro immediatamente successivo alle sorelle materassi che non è più un romanzo ma un'ampia raccolta di racconti in cui le doti artistiche di Palazzeschi raggiungono probabilmente la sua espressione più completa Paglio, notate, siamo in Toscana, non siamo a Siena ma comunque a Firenze in una regione in cui il palio, inteso come gara, inteso come torneo, inteso come corsa, sfida reciproca è nella più profonda tradizione medievale comunale dei buffi, che cos'è il buffo? Il buffo non vuol dire una persona che si presenta a noi con tratti buffoneschi con tratti pesantemente comici Nell'accezione di Palazzeschi il buffi sono coloro che hanno un tratto rievemente irregolare nel proprio comportamento rispetto a quella che noi riteniamo la norma sono coloro nella cui esistenza si è acceso come una fiammella un momento d'eccezione, un momento di straordinarietà sono coloro che nascondono come una piega nella propria epidermide un vizio leggero che tuttavia è la testimonianza molto probabile se non certa di una ferita assai più profonda che in un momento della loro vita li ha colpiti Ebbene, il bellissimo Remigio questo adone che dalle Marche si trasferisce per ragioni di sopravvivenza nella dimessa casa delle zie e zitelle e che in apparenza almeno è segno e portatore della vita con la V maiuscola, della bellezza con la B maiuscola è una delle ennesime variazioni sui buffi è anche Remigio un buffo è quella rotella che fa scartare, uscire dal binario della immutabile regolarità la vita degli altri è quella eccezione, è quel vizio nascosto è quella piega occultata che mette in crisi la normalità Le sorelle Materassi, 1934, è il romanzo della normalità entrata in crisi e da questo punto di vista contiene dentro di sé al di là della magnifica ironia dello straordinario senso del comico di Palazzeschi scrittore una pregnanza di messaggio morale che va ben al di là del suo intreccio su Palazzeschi, su Le sorelle Materassi sul resto della produzione di questo grande protagonista potrete trovare molte preziose notizie nel sito internet di Nettuno